ciao sono valerio gli essi insieme a daniele ferrara e adriano romano sono uno dei tre proprietari della pizzeria i borboni oggi con l'italia del gusto di ferrarelle vi presentiamo la nostra pizza gelato mediterraneo gelato mediterraneo perché con questa pizza abbiamo pensato a quello che di meglio poteva offrire il territorio a partire dall'interno alla costiera fino ad arrivare al mare abbiamo pensato così di montare fin quando non diventasse molto simile ad un gelato la mozzarella di bufala a seguire aggiungiamo misticanza di un'azienda locale la granella di pistacchio una buccetta d'arancia candita da noi un po di gambero rosso del mediterraneo fatto a tartare e un gel di limone fatto da noi per finire un tocco finale di freschezza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti